La realtà a volte non è poi così scontata come si pensa che sia. Che differenza c'è tra la realtà e il sogno? Dov'è che finisce la realtà e dove inizia il sogno o la fantasia? Ve lo spiego io che cos'è. Reale è... La realtà è la realtà e la realtà è la realtà. Non muore mai se credi che con la fede e con l'umità ciò che non tocchi e non vedi fa parte della realtà. La realtà è la realtà e la vita che c'è nella di là. Il mondo che ti inventi fa parte della realtà. Reale è ciò che so fare da me. Reale è un po' dire che il falso non è. La staglia è un po' dire che il cuore. La staglia è un po' dire che il cuore. Non è... Reale è ciò che so fare da me. Reale è un po' dire che il falso non è. La staglia è un po' dire che il cuore. La staglia è un po' dire che il cuore. La staglia è un po' dire che il cuore. La staglia è un po' dire che il cuore. La staglia è un po' dire che il cuore. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti